Con deliberazione 749 del 29 dicembre 2015, l'esecutivo regionale ha deliberato di prorogare la convenzione prevista dal protocollo d'intesa per l'anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cassa integrazione guadagni in deroga e dell'indennità di mobilità al 31 dicembre 2017 sulla scia della proroga nazionale, sancita a fine novembre. L'atto deliberativo supportato dagli istruttori aperta dalla direzione dell'area terza della regione Molise, diretta dalla dottoressa Alberta Delisio, prevede la proroga della convenzione tra regioni e associazione bancaria italiana, così come condivisa dalla commissione regionale tripartita in data 28 luglio 2014 ed approvata con un atto deliberativo sempre in giunta regionale numero 346 2014 al fine di consentire le erogazioni da parte degli istituti di credito per ridurre i tempi di attesa dei lavoratori, aventi diritto a beneficiare delle previste anticipazioni delle integrazioni salariali nell'emore del pagamento diretto direttamente dall'Inps. Nella giornata di ieri i referenti regionali dell'associazione bancari hanno confermato l'assessorato regionale al lavoro che la commissione regionale dell'associazione ha espresso parere favorevole alla proroga della convenzione ed è in attesa della necessaria formale delibera del comitato esecutivo dell'ABI programmata per il prossimo 20 gennaio. Per questo ai tanti lavoratori che si stanno recando presso gli uffici regionali di competenza si ribadiscono le rassicurazioni date anche da parte degli istituti di credito di riferimento confermando il proseguio dell'intesa.